Ciao a tutti, risana e rivitalizza le tue cellule con la mente. Allora, noi dobbiamo tenere presente che esiste una connessione certa, una connessione sicura tra mente e corpo. Mente e corpo non sono delle cose, come dire, separate, non sono delle cose che non hanno connessione, anzi sono unite e hanno delle connessioni. Mente e corpo si influenzano a vicenda. Quindi noi con la nostra mente possiamo utilizzare il nostro corpo, le nostre cellule, rivitalizzarle, migliorarle. È evidente che le cellule assorbono energia mentale, quindi energia negativa. Se i nostri pensieri sono pensieri spazzatura, se i nostri pensieri sono legati ai sensi di colpa, se sono pensieri legati alla rabbia, se sono pensieri pieni di rancore, pieni di insicurezze. È evidente che in questi casi noi, diciamo, riempiamo di energia negativa le nostre cellule, il nostro corpo. Pensate che noi siamo fatti di acqua, al 90% forse di più, 80%, comunque la percentuale di acqua è molto alta e l'acqua è influenzabile dai pensieri. Sono esperimenti di esamoto che dicono proprio questo, anzi, è importante bere acqua prima di averla rivitalizzata con pensieri positivi, anche soltanto con parole scritte e intenzioni positive. Perché proprio il pensiero positivo elimina la negatività. Quando i cristalli d'acqua si solidificano sono in una situazione armonica. Ora, è importante quindi renderci conto che eliminare i pensieri spazzatura legati a rabbia, rancore, risentimenti, sensi di colpa, ci permette di stare bene. Ci permette di ottenere dei risultati positivi. Per fare questo però è importante mettere dei pensieri positivi, iniziare a mettere dei pensieri positivi, sostituire il negativo col positivo. Come possiamo farlo? Bene, possiamo intanto abituarci. La nostra mente si abitua a tutto, quindi noi abbiamo preso delle abitudini negative e dobbiamo correggere queste abitudini negative di avere un dialogo interno negativo e sostituirlo con un dialogo interno positivo. Inizialmente dovremmo sforzarci di farlo. Dovremmo sforzarci di farlo introducendo delle frasi, dei pensieri, positive per noi, le cose andranno bene, io sono il migliore, io ce la faccio. Io ottengo quello che voglio. Inizio a mettere dei pensieri positivi. Inizialmente non mi verranno perché sono abituato a mettere quelli negativi, però piano piano, come dire, acquisirò una consapevolezza profonda. E questi pensieri li introdurrò anche in momenti spot, ad esempio attraverso le meditazioni profonde, le meditazioni vipassana. Prima devo capire che serve fare tutto questo e dopodiché lo faccio. E in questo modo cosa ottengo? Ottengo che, come dire, mi trasferisco anche al mio corpo, quindi alle mie cellule, la positività. Inizieranno a lavorare meglio, inizieranno a rivitalizzarsi, a risanarsi. Questo è molto importante. Quindi introdurre la positività nella propria mente introduce la positività, il benessere nel proprio corpo. Bene, per questo video è tutto. Seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Iscriviti al canale. Iscriviti anche al mio nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti. Ciao a tutti.